Non succede, non succede, pensate se negli Stati Uniti o in Svizzera un deficiente si permette, non di prendere a bastonare, ma di prendere un tratto in fiera a Vicenza, la varia di persone. Stanno arrivando quelli che sono usciti di galera e siccome fare il delinquente in Tunisia o in Marocco è pericoloso, vengono a fare i delinquenti in Italia, perché la sinistra non è buona che vuole aiutare gli immigrati, la sinistra vuole schiavi da usare nelle fabbriche, nei campi, nelle catene di montaggio a 2 euro all'ora. Loro che fuggono dalla guerra, che fuggono dalla fame, dalla carestia e dalle bombe, vogliono vedere le partite su Sky, vogliono mangiare bene e vogliono stare tranquilli. Tanto chi paga? Noi. Voi. Non ho capito italiano, vieni. Ma c'è qualcuno che parla italiano? Grazie. È affaticato perché scappa dalla guerra. Fuori Salvini, siccome pagano gli italiani, il signore lì dice che siccome pagano gli italiani, gli italiani hanno diritto di capire cosa succede qua dentro, ok? Capito amici, vogliono più soldi. Non so, invece di dire grazie vogliono più soldi. Questo è quello che sta succedendo. Questo, ma vi par normale? Un bacione con la certezza che queste immagini non verranno mai fatte vedere da nessun telegiornale.